Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo piccolissimo tutorial dove vi insegnerò come crackare Virtual DJI 7 Pro. Innanzitutto dovete scaricare ed installare Virtual DJI 7 Pro ma non dovete aprirlo. Una volta installato il programma dovete andare nel link in descrizione e scaricare la crack. Una volta scaricata la crack fate come me. Aprite la cartella della crack e trascinate l'icona nella cartella dove è installato Virtual DJI. E sostituite il file. Una volta sostituito il file potete eliminare il vecchio collegamento di Virtual DJI. Dopo averlo eliminato potete tranquillamente mettere il nuovo collegamento sul desktop. E ora potete godervi Virtual DJI Pro 7 senza limitazioni. Il lato negativo è che non si possono scaricare gli aggiornamenti e quindi la versione rimane la stessa. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Per altre informazioni potete mandarmi un messaggio privato. Alla prossima da DJ Fire 98.